Tutti contrari da tempo, eppure come tradizione che si rispetti, arrivano le giostre nel porto di Alghero. Addossate sul nuovo mercato del primo pescato, costato circa un milione di euro, proprio davanti alle barche dei pescatori del nuovo pontile e del consorzio del Nord Sardegna, inizia a prendere forma il Luna Park. Passano gli anni dunque, i problemi nell'area portuale permangono. Difficile ogni sorta di attività, spazi ristretti e poco congeniali, perché si ritrovano ammassate nell'area diverse realtà, in assenza di un piano di sviluppo da troppo tempo rimandato.